Grande Apple Family, grandissimo! Ce l'abbiamo solo noi perché nessun altro locale lo fa lavorare faregli un applauso, meraviglioso! C'è una cosa importantissima da fare facciamo un applauso a tutti gli anelli di Dr. Vintage Guardate, quanti sono gli anelli? C'è 10 litri e 11 anelli! Facciamo un applauso anche ai Vintage Angels! Su le mano! Buon proseguimento, ci vediamo in 31 notte al Palazzo dei Congressi Fargetta, Albertino, prezioso e poi chi c'è? Tutti! Conella, Dr. Vintage, Vito e lei saranno mia mogliata e mia suocera Cristian Vesiga, Porti, tutti Buon proseguimento, Porti, Cristian Vesiga, Francesca, pure c'è tutti qua, ciao, a dopo, ciao, buon proseguimento Amica ci lasci così, noi dopo ti vogliamo Ti ricordi bene, dove sei accanto, scusate? Se ne va! Io, caro Vito, voglio fare tanti auguri a Francesca che festeggia compleanno L'URI! Un saluto se siete al grande insomma, è già venuto Enrico presente E tante parole poliografie